di Venezia nel mondo, una specie di Marco Polo che ha portato la nostra musica e la sua musica in particolare dappertutto vedete queste immagini appunto cinesi e adesso ce la godiamo, veneziana e italianissima, batti bravo! Grazie, ciao a tutti! E facciamo un applauso prolungato al dottore che era prima qui perché veramente lo strada è il signore che se lo merita Guardate io conosco Battipravo da molti anni e mi ricordo anche gli inizi della sua carriera Questa signora qui alla mia sinistra ha avuto sempre questa caratteristica che è sua, che è mediatica, che è magheggiano Non lo so, appena esce Battipravo c'è un silenzio, c'è la diva, arriva il carisma della grande diva Sai che è così? Senti Nicoletta, tu sei sempre stata inquieta, sempre in fuga, sempre in giro per il mondo, ti è sempre piaciuto? Scusami, io adoro molto le rosa, però non so come te... No, guarda, questa rosa è più dominante, la tengo io Ho attaccato il mio chewing-gum, attento Che cosa? Il mio chewing-gum, se no sai che... Ah, se il chewing-gum hai attaccato la rosa? Sì, vale molto di più Allora, diciamo, sei sempre inquieta, giri per il mondo, sei insoddisfatta, sempre? No, io non sono insoddisfatta, sono una ragazza curiosa e sono una persona che ha necessità di... Sono nomade e sono sempre alla ricerca di qualcosa, se avessi dovuto fare la bambola per tutta la vita, oppure un po' per tutta la vita, per esempio artisticamente, mi sarei fatta molto male, perché avrei dovuto cercare qualcos'altro Certo, sarebbe stata una noia pazzesca, forse Sì, questo sicuramente E poi anche questo... e poi ho bisogno, per esempio, di stare molto in contatto con la natura, quando non lavoro E... forse di sentire, di mettermi in sfida con me stessa, per sentire che sono una ragazza forte, insomma, nonna, mamma e papà mi hanno fatto bene e io... Ma tu qualche anno fa hai fatto una dichiarazione, che non ricorderai ovviamente, perché hai fatto tante di quelle cose... Io ho un'ottima memoria Hai fatto una dichiarazione che è un autoritratto, è come se veramente uno dice, si descriva, dica tutto quello che è, prego, vediamolo Sono arrivata a Roma da Milano con degli amici, la sera siamo andati a ballare Poi Procetta, è il padrone di quattro Piper Club, di una casa discografica, di negozi di vestiti beat per ragazze e bambini Mi ha lanciato lui Io mi chiamo Nicoletta Strambelli, mi ha chiamato Patipravo, un nome veloce, come la vita di giovane, dice Somiglia un po' depravato, un po' provos Il nostro è stato un incontro di due matti Appena mi conosce la gente mi trova antipatica Non mi interessa, non voglio fare niente per essere diversa o rendermi simpatica Io sono come sono e come mi fa di essere Lo so che ho dei difetti, per esempio dovrei avere le gambe, le mani più lunghe, la faccia più magra Ma in sostanza mi accetto, mi piace, sono abbastanza narcisista Solo mi sento triste, neanche stupida Ho sempre vissuto a Venezia con i nonni, con i miei genitori e rapporti telefonici Amiche niente Te la ricordavi? Sì sì, e continuavo E continuavo con la mia mocina tutta un po' così, no? Un po' nasale E cosa continuavi? Dicendo che cosa? Dicevo che ero un po' urso Ah Sì, cosa che è rimasta alla fine Infine, io amo molto stare insieme con le persone, eccetera Però ogni tanto Ti ritiri? Devo stare nella mia tana Oppure stare in una tana E il tuo carattere giovanile cosa ti è rimasto? Cosa hai perso? Vorrei dire delle cose che ti piacciono tanto, Pippa No, devo dire Forse non sono diventata più saggia Sono diventata forse più bambina Ah, questo Nel senso più bello della parola Cioè che dovremmo essere tutti Conservare tutti Più fertile Certamente Proprio giocare a Torona Avere la possibilità di giocare Di vedere Di amare, eccetera E non amare Ecco Diciamo che da ragazzina Davo molti ordini tanti O dire no Ma sai Avevo cominciato presto a studiare Se avevo tante cose Quanti anni avevi quando hai cominciato a studiare a Venezia? Quattro anni? Quattro anni prima fatte Ma perché ti piacevano pure i tuoi genitori Spesso i genitori che violentano No Amabilmente No, no Io sono stato fortunato Ho avuto una nonna che ha capito che doveva impegnarmi Ah Perché ero abbastanza esuberante E quindi Ha pensato bene di farmi studiare a pianoforte Danza classica con la maestra Con il professor Tuito Della Fenice di Venezia E quindi sono stata abbastanza impegnata Fino a dieci anni E dieci anni sono entrata al conservatorio Benedetto Marcello Poi insomma Ho studiato sempre E sei poi con professori meravigliosi Bagnoli, Gracis, eccetera Senti, tu hai venduto 30 milioni di dischi di una canzone Che giustamente come hai detto prima Se avessi cantato per tutta la vita La Bambola sarebbe stata un'ossessione Una specie di camera a gas Sì E alle catate in tutte le lingue Perché ti portavano dappertutto Ovunque la incidessi Era sempre un successo Sì, la Bambola è stato il mio primo grande espluante Chiaramente io ho vissuto i primi 15 anni della mia vita Dieci anni Girando il mondo in continuazione È stato scritto questo Che tu hai consegnato con la tua voce La tua personalità, il tuo carisma Le chiavi di casa alle ragazze Che dovevano invece rientrare prima Beh, ho cominciato a lavorare a 15 anni Allora non era molto facile E quindi hai fatto crescere Sì, poi questa è una cosa carina Che ha detto Loredana per te, credo, anche Sì Vabbè, allora sentiamoci questa Bambola in spagnolo In spagnolo? Allora siamo originari Wow Parati io soy Parati io soy Solamente una bambola Con chi inquiega tu Con chi inquiega tu Solamente una bambola No ti ricordi quando io Quando sei più triste E poi la tua voce Solo pensavo in ti No, luchasero Tu non conseguirai Que io sia una ma De quien te pueda burlar Oh no, oh no Parati io soy Con chi inquiega tu Però è bella questa canzone Ma il pezzo è bello Bellissimo Il pezzo era molto bello Era, sai, subito dopo questo Io ho cominciato a fare Autori francesi, eccetera Per cui, sai, fare del poppino E a me gli americani volevano che mi formassero Ma quando eri tu a Venezia Adolescente Hai avuto delle frequentazioni eccezionali Erza Pound L'hai conosciuto? Sì, certo Hai conosciuto Cesco Baseggio Grande attore Goldoniano Poi Peggy Guggenheim Che è quella che poi ha fatto i musei Guggenheim E hai conosciuto Giovanni XXIII Angelo Roncalli Eh sì, era la Cardinale Venezia Sì, lo so che era lì Ma come l'hai conosciuto? L'ho conosciuto perché Nonna parlava in veneziano Si riunivano a casa Con Cesco Baseggio, eccetera E il Cardinale Roncalli A lui piaceva molto Sentire parlare il vero veneziano E quindi si riuniva Lui è Bergamasco Io arrivavo a casa Certo, io arrivavo a casa Mi trovavo con i vecchietti Salve doveva fare l'inchino piccolo Poi magari esplorare qualcosina Non ti ha mai detto Lui che poi è diventato santo Lei diventerà una peccatrice Non te l'ha detto? Ma sai, nella vita si passa sempre un po' di peccato Altrimenti non saremmo qui tutti quanti Vabbè, hai ragione Dunque, Anna Prima vi dicevi Una cosa molto interessante Cioè che a un certo momento Dopo la bambola Ti è piaciuto un repertorio diverso Hai studiato la musica francese Léo Ferré Jacques Brel Insomma, questi grandi Della musica francese E hai fatto Non so se voi ve l'ha ricordato Una canzone bellissima Neme Kittpah Che è Non andare via significa Di Jacques Brel Che aveva scritto anche Le Plape Id Destinato al suo paese Perché lui era belga E guardate È un'interpretazione Bellissima Perché poi c'è una reazione emotiva Non anticipo niente Guardate Una cosa esteticamente Sì, sì Io raccoglierò Diamanti di pioggia Là dove la pioggia Non cade mai Ruberò la terra Non andare via Non andare via Per te inventerò Parole senza senso Che tu capirai E ti parlerò E ti parlerò Dei due amanti Che sono bruciati insieme Per due volte già Ti racconterò Ti racconterò La storia di un re Che morì perché Non trovò più lei Non andare via Non andare via Che bella canzone Che bella Interpretazione E che bella faccia Sembra un po' La mamma di me stessa Dai, dai, dai È una gioia È una gioia Senti, patti bravo Significa Canzoni Significa Interpretazione Significa Personalità E significa anche Abbigliamento Significa anche Pettinature Perché tu Hai sconvolto La gente Perché a casa Dicevano Ma stasera Come la vedremo Già oggi sei veramente Oggi è domenica Ho portato anche un po' Di pasticcini Certo Oggi No perché Senti sì Oggi sì Venire un po' Però i tuoi Pannucchieri Il mio amico Marcello Certo Casoni E poi Tanti altri Ovviamente stilisti Si sono divertiti con te Perché tu Insomma Sì sono esattamente Quello che voglio Naturalmente Quando faccio le mie cose Io mi ricordo Un Sanremo Avevi un vestito Pesante 150 kg No Non era così pesante Avevo Un metro e mezzo Di coda Eh Beh Capirai Insomma Era una cosa importante Adesso C'è stata questa raccolta In cui si vendono tutte State attenti Amici Amiche Telespettatrici Anche telespettatori Che Nicoletta Ti piace molto Agli uomini E io lo so Ma ricordati Che quando si vende Tanto Si vende Perché le donne Comprano Certo Quindi E quindi No no nulla Io Vai 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 Vai